Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un caso che molti di voi mi hanno chiesto sia su Google Docs che nei commenti sotto i miei video. Vi sto parlando del serial Daniel Harold Rowling, noto anche come lo squartatore di Gainesville. Ci troviamo, come già avrete immaginato, a Gainesville, in Florida. Prima dell'estate del 1990, Gainesville aveva il fascino di una piccola cittadina del sud. C'erano case graziose e querci ovunque. Gainesville è, prima di tutto, una città universitaria, infatti proprio lì assiede l'Università della Florida. La vicina cittadina di Tahasi, a differenza di Gainesville, aveva raggiunto un livello di notorietà alquanto indesiderato quando nel 1978 Ted Bundy, evaso dalla prigione del Colorado, aveva scelto la Florida come sua nuova destinazione. Nell'agosto del 1990 si avvicina il nuovo anno scolastico all'Università della Florida, anche se i mesi estivi tendono ad essere più tranquilli rispetto al resto dell'anno, con la maggior parte degli studenti che tornano a casa. Gli appartamenti e i dormitori sono vuoti. E questa atmosfera assonnata e rilassata la si può assaporare fino a quando iniziano ad arrivare le auto con a bordo i vari genitori che accompagnano i figli per il loro primo anno di college lontano da casa. Sonia Larsen e Christina Powell, di 18 anni, sono delle studentesse che si sono diplomate al liceo la primavera precedente e stanno entrando all'Università come matricole. Si conoscono durante l'estate, mentre soggiornano entrambe nel dormitorio del campus. Con l'inizio del semestre estivo decidono di affittare un appartamento al Williamsburg Village Apartments con una terza coinquilina. Il villaggio di Williamsburg, così si chiama in italiano, è fuori dal campus ma soli quattro isolati dalla scuola. Sonia aveva frequentato una scuola magnetica nella sua città natale, Derfield Beach. Le scuole magnetiche funzionano quasi come una via di mezzo tra le scuole pubbliche e private. Sono gratuite ma possono offrire un'istruzione migliore agli alunni. Tonia era una studentessa collode, era manager di una squadra di basket femminile, amava i bambini e progettava una carriera nel campo dell'educazione. Mentre Cristina si era diplomata in una scuola superiore episcopale di Jacksonville, dove era stata redattrice dell'annuario scolastico e scrittrice della rivista letteraria della scuola. Era un membro del gruppo giovanile della sua chiesa ed eccelleva nello studio della Bibbia, mentre progettava di specializzarsi in teologia, sebbene avesse anche un interesse per l'architettura. Le due, come già vi ho detto, decidono di trasferirsi fuori dal campus a Gainesville e venerdì 24 agosto trascorrono la maggior parte della giornata a scaricare le valigie dalle loro auto, poi si dirigono al Walmart locale per acquistare vari oggetti utili per il loro nuovo appartamento. Cenano insieme da Chillis e infine si fermano ad un minimarket, di modo che Sonia possa usare un telefono pubblico per chiamare sua madre, in quanto a casa loro il telefono ancora non è stato collegato. Arrivati a casa si mettono a dormire, perché la mattina dopo, ossia sabato, hanno intenzione di alzarsi presto per continuare a disfare le valigie, sistemare tutto e cercare un lavoro. La terza coinquilina e i genitori di Cristina sarebbero dovuti arrivare domenica 26 agosto. I vicini riferiscono di aver sentito la canzone Fate di George Michael a tutto volume provenire dall'appartamento delle ragazze sabato mattina verso le 5. Poi hanno sentito l'acqua della doccia aprirsi e scorrere intorno alle 6. Sonia promette al suo ragazzo di chiamarlo, ma quella chiamata non arriva mai. I genitori di Cristina provano a chiamarla per tutta la giornata di sabato, prima di arrivare a Gainesville, domenica, come previsto. Quando arrivano provano a bussare alla porta d'entrata più volte, ma non ricevono mai risposta, quindi chiamano la polizia. La polizia sfonda la porta e trova Sonia e Cristina nel loro nuovo appartamento senza vita. Sono state accoltellate e pare siano morte da venerdì sera o da sabato mattina presto. Inoltre, il loro assassino ha messo i loro corpi in posizioni oscene. A questo punto ci dobbiamo spostare ad Archer. Si trova a circa 24 chilometri a sud-est di Gainesville. È una piccola città che si estende per meno di 11 chilometri. Nel 1990, la diciottenne Krista Hoyt si diploma al liceo ed è anche lei una studentessa collode in chimica. Frequenta il Santa Fe Community College, ma vuole trasferirsi all'Università della Florida con l'obiettivo di entrare a far parte dell'FBI per lavorare nella medicina legale. Fino a metà agosto condivide un appartamento con una coinquilina che però si è da poco trasferita. Cristi è nota per essere una ragazza cauta e affidabile. È attenta alla sua sicurezza e non aprirebbe mai la porta ad un estraneo. Lavora come impiegata nel dipartimento dei registri dell'ufficio dello sceriffo della contea di Alash e deve arrivare per iniziare il suo turno attorno alla mezzanotte di sabato sera 25 agosto. Il problema è che non arriva mai. Entro l'una di domenica 26 agosto i suoi colleghi notificano alla polizia locale la situazione e chiedono di andare a controllare che Krista stia bene. Ebbene, il suo appartamento è a meno di 5 km dall'appartamento di Sonia e Cristina. Quando un ufficiale di polizia arriva all'appartamento di Krista e prova la porta chiusa chiave, e chiede al gestore della proprietà di mostrargli come accedere all'appartamento attraverso una porta scorrevole dalla camera da letto di Krista, quindi dal retro della casa. L'ufficiale nota che la recinzione che separa l'edificio dal bosco adiacente ha una sezione cedevole, come se fosse stata spinta verso il basso. Anche la porta scorrevole della camera da letto di Krista è chiusa, così come le persiane. Nonostante ciò, ci sono dei piccoli spiragli che permettono all'ufficiale di polizia di puntare la torcia per vedere se sia tutto ok. Il punto è che ciò che vede lo lascia inorridito, sembra un film dell'orrore. Il corpo di Krista è su una sedia davanti alla finestra, ripiegato in vita. Ha ferite da taglio alla schiena e da un taglio dallo sterno, al bacino. La testa è staccata, o meglio, l'ufficiale non riesce a vederla, ma di sicuro non è più attaccata al corpo. Quindi l'ufficiale butta giù la porta principale, entra in casa e si trova davanti ad uno spettacolo davvero agghiacciante. In bagno le pareti e il pavimento sono ricoperti di schizzi di sangue, mentre su uno scaffale della libreria della camera da letto trova la testa della padrona di casa, che sembra guardarlo ancora terrorizzata. Il resto del corpo, rinvenuto seduto su una sedia, è stato sentrato dallo sterno all'osso pubico. Il medico legale conferma che i tre omicidi sono stati commessi tutti dallo stesso uomo, che ha portato via la biancherea intima delle vittime e, dopo averle legate con del nastro adesivo, ha fatto violenza su di loro. A questo punto inizia a girare una notizia allarmante ed il panico dilaga. Nel giro di 24 ore la polizia ha scoperto tre donne senza vita. Come già vi ho detto poco fa, il panico inizia a diffondersi ovunque. I genitori chiamano ripetutamente i loro figli per accertarsi che stiano bene. Altri insistono affinché tornino a casa per il semestre. I negozi di Gainesville vengono presi d'assalto e gli abitanti comprano catenacci, mazze da baseball, pistole. Gli studenti che decidono di rimanere a scuola si uniscono raccogliendosi in gruppi per dormire a turni. Le studentesse chiedono ai loro amici maschi di rimanere con loro, credendo che la presenza di uno o più ragazzi avrebbe dissuaso l'assassino a colpire. Tracy Pulse è una di quelle donne. È molto spaventata dalla notizia degli omicidi, ma si sente al sicuro con il suo amico e conquilino, Manuel Taboada. Tracy è un'ex reginetta di bellezza, nonché giocatrice di softball e di calcio nella sua città natale, ossia Miami. È un membro della National Honor Society come senior presso l'Università della Florida e ha intenzione di proseguire la sua formazione frequentando la facoltà di giurisprudenza. Poi c'è Manny, di 23 anni. Ha frequentato il liceo e si è diplomato proprio con Tracy. Manny è stato presidente del club teatrale del liceo ed è un ex giocatore di football. Il ragazzo sogna di diventare architetto e ha frequentato il Miami-Dade Community College e il Santa Fe Community College. Manny e Tracy non sono fidanzati, bensì amici e si vogliono davvero molto bene. Condividono una casa situata su Archer Road che dista circa un chilometro e mezzo dal campus. Lunedì 27 agosto Manny inizia a lavorare come barista presso il Binningens Pub, quindi arriva a casa tardi. Tracy è al telefono, sta chiacchierando con un'amica proprio degli omicidi. Quando lo vede arrivare tira un sospiro di sollievo e si va a fare una doccia, perché ha troppa paura a farla di notte senza nessun altro in casa. Manny verso le due del mattino saluta Tracy e va a letto. Il giorno successivo un amico passa a trovare Manny e Tracy e ahimè scopre i loro corpi senza vita. Manny è sul letto mentre Tracy giace in corridoio. Sia Manny che Tracy sono stati uccisi con feroci coltellate. I capelli di Tracy sono ancora umidi a dimostrazione del fatto che è stata aggredita dopo essersi fatta la doccia. Manny è stato ucciso probabilmente per eliminare un testimone scomodo o perché l'assassino non voleva essere disturbato mentre si occupava di Tracy. In questo caso i cadaveri non sono stati mutilati. Forse è accaduto qualcosa per cui l'assassino temeva di essere scoperto se si fosse accanito sui corpi. La paura impregna ogni angolo di Gainesville. Gli studenti fuggono dalla città in massa, alcuni per non tornare più. Se l'assassino è riuscito a sopraffare Manny che è un ex giocatore di football alquanto corpulento, nessuno è al sicuro. L'università annulla le lezioni quando le truppe giornalistiche e i media di tutta la nazione si accalcano a Gainesville, quella piccola città che è riuscita a sfuggire a Ted Bundy più di un decennio prima, ora è la casa dello squartatore di Gainesville. Più di 36.000 studenti hanno popolato Gainesville nel mese di agosto. Certo, entro la fine del mese molti sono fuggiti per la paura, lasciando coloro che hanno deciso di rimanere nel campus dormire a turni, rannicchiati in gruppi di circa 20 persone. Alcuni stringono tra le mani una mazza da baseball, molti appendono delle lattine di birra nelle loro stanze ad altezza spalle, oppure posizionano dei piatti sul pavimento. Qualsiasi cosa che possa avvisarli in caso dell'ingresso di un intruso. In sole 72 ore, un assassino si è scatenato nella tranquilla città universitaria, lasciando 5 studenti uccisi, pugnalati e uccidati. Le strade, normalmente brulicanti, di giovani collegiali, ora ospitano i vari organi di informazione, che con la lentezza tipica dell'estate hanno riempito la zona, trasmettendo in tutto il paese immagini di studenti addolorati e impauriti. I residenti di Gainesville, alcuni dei quali in precedenza lasciavano le porte aperte, smettono immediatamente di farlo. Ora si nascondono dietro a porte a doppia serratura, accendono le luci di ogni stanza nelle loro case. Il suono di un ramo che si spezza o lo stridio di un gufo li porta ai loro telefoni per chiedere aiuto, ma una volta che la polizia arriva, alcuni degli stessi chiamanti non aprono la porta agli agenti per paura che l'assassino sia un membro delle forze dell'ordine. Coloro che invece aprono la porta lo fanno stringendo tra le mani una pistola. Gainesville è una città universitaria in tutto e per tutto. C'è l'orgoglio per la scuola, l'orgoglio per la squadra di calcio. È così che la città e l'università si uniscono, accumulate dalla paura e dalla preoccupazione. L'università si offre di rimborsare le tasse scolastiche agli studenti che scelgono di andarsene, mentre gli studenti che decidono di rimanere a Gainesville, ahimè, vengono penalizzati per la mancanza di lezioni. Ovviamente la pressione sulle forze dell'ordine locale diventa ben presto immensa. Tutti, dagli studenti e i genitori fino all'università, chiedono a gran voce risposte il più rapidamente possibile. Le forze dell'ordine locali, dopo la scoperta del corpo di Krista Hoyt, ovviamente entrano immediatamente in azione. Sebbene alcuni libri, serie tv o film fanno sembrare la cattura di un serial, un gioco da ragazzi, la realtà è ben diversa. I serial a quel tempo non sono affatto facili da individuare né da catturare. Nel 1990 il test del DNA è agli albori. Inoltre i serial non solo aumentano nella violenza man mano che accumulano vittime, ma anche nei loro metodi e nella loro educazione, il che significa che quando commettono più omicidi diventano più bravi nell'evitare di essere scoperti. A meno che non vengano presi da deliri di onnipotenza, cosa che capita spesso. Il punto è che questi omicidi nel giro di davvero pochi giorni sembrano finire. Sonia e Cristina sono state vittime dell'assassino tra venerdì sera e sabato mattina presto. Krista domenica in tarda mattinata e Tracy e Manny tra lunedì sera e martedì mattina. La città trattiene il respiro mentre passano i giorni, fino a quando arriva il fine settimana. La notizia degli omicidi è tremenda ed inquietante. L'improvviso calo è altrettanto snervante. Perché l'assassino si è fermato? È ancora nella zona di Gainesville? Potrebbe colpire di nuovo? E se sì, quando? Mercoledì 29 agosto la polizia locale e l'università tengono una conferenza stampa congiunta, annunciando che circa 100 investigatori formeranno una task force e lavoreranno alle indagini. Gli investigatori forniscono pochi dettagli ai media per paura di compromettere l'integrità delle indagini. Infatti, quel mercoledì hanno già individuato quello che sembra essere un sospettato perfetto. È un ragazzo di nome Edward Lewis Enfrey. Edward ha 19 anni, è uno studente dell'Università della Florida e cammina zoppicando a causa di un incidente d'auto che gli ha causato anche tantissime cicatrici al volto. Viene descritto come un ragazzo solitario con pochissimi amici. Coloro che lo conoscono sostengono che odia le donne e in passato ha trascorso dei periodi di tempo abbastanza brevi in diversi istituti psichiatrici. Inoltre, è solito portarsi dietro un coltello da caccia e fino alla settimana precedente ha vissuto ai Gatorwood Apartments, dove Tracy e Manny sono stati assassinati. I coinquilini di Edward lo cacciano dall'appartamento a causa dei suoi comportamenti strani. Dicono abbia, cito testualmente, dei comportamenti da pazzo fuori di testa. Giovedì mattina Edward viene arrestato a India Atlantic per aver picchiato sua nonna di 79 anni. La donna dice ai poliziotti che suo nipote l'ha anche minacciata di morte. Edward quindi viene portato al centro di detenzione della contea di Brevard a Shapes. La nonna, dopo aver ricevuto le dovute cure in ospedale, ritratta la storia dicendo di aver colpito, per sbaglio, il frigorifero. Le forze dell'ordine al momento stanno tenendo d'occhio una dozzina di sospettati, ma Edward è decisamente in cima alla lista. Infatti scoprono che durante quell'estate sono state fatte più di 20 chiamate moleste da casa della nonna di Edward. E fidatevi, non era la nonna a fare queste chiamate moleste. Molti altri lamenteli, inoltre, hanno a che fare con Edward e i coltelli. Il 6 agosto, infatti, era stato arrestato alla base dell'aeronautica militare di Patrick perché aveva nascosto delle armi, ossia un coltello da marinaio e un coltello in acciaio inossidabile. Edward aveva affermato di voler arrivare in Iran a nuoto per uccidere delle persone. L'interrogatorio iniziale di Edward lascia gli investigatori con più domande che risposte. Il ragazzo, durante l'interrogatorio, afferma di avere una doppia personalità di nome John. Infatti, John ha commesso gli omicidi. Il problema è che questo John divaga in modo incomprensibile, inoltre sbaglia parecchi fatti nel ricostruire i suoi delitti. Arriva lunedì e il livello di paura inizia a diminuire in modo significativo a Gainesville ed intorni. Infatti, molti studenti ritornano al campus. Martedì, quasi mille persone assistono alla funzione commemorativa per le cinque vittime. Sul muro della trentaduesima strada, gli studenti dipingono un murales, mettendo tutti e cinque i nomi delle vittime in stampatello bianco, con un grande cuore al di sotto. Sabato, più di 75.000 fan riempiono il Florida Field, col fine di fare il tifo per i Gators, per la partita di apertura della stagione, dove viene osservato un momento di silenzio in onore delle vittime. Mentre Edward continua a rimanere in prigione con la cauzione fissata a 2 milioni di dollari, vengono spiccati mandate di perquisizione per la sua Cadillac, la residenza di sua nonna e l'appartamento di Gainesville in cui si è trasferito dopo essere stato sfrattato dai Gatorwood Apartments. Le autorità sequestrano coltelli e scarpe da tennis che devono essere paragonate alle prove trovate sulla scena del crimine. In una federa trovano tre riviste e queste riviste contengono degli articoli sulla decapitazione. Gli investigatori però sono in possesso di prove relativamente scarse sia per il numero delle vittime che per le scene del crimine così estremamente sanguinolente. Sanno che il colpevole ha usato un cacciavite per entrare negli appartamenti di Krista, Tracy e Manny. Dei capelli non identificati vengono trovati nella biancheria da letto sia di Krista Hoyt che di Sonia Larson. Sangue e seme sono stati recuperati in tutte le scene del crimine. I peli pubici prelevati da Edward sono microscopicamente simili ai peli trovati sulle scene del crimine di Krista Hoyt e Sonia Larson ma non sono sufficienti per giustificare una condanna. La Florida è uno dei primi leader nella tecnologia del DNA quindi tutti sperano che i test sul sangue e sul seme possano portarli all'autore degli omicidi. Dai test, gli investigatori apprendono che l'assassino ha il gruppo sanguigno B. Le forze dell'ordine decidono di prelevare un campione di DNA da Edward per confrontarlo con quelli trovati sulla scene del crimine. Nel frattempo, gli inquirenti iniziano a controllare altri omicidi risolti in tutto il paese. Uno in particolare suscita il loro interesse. è un omicidio che era avvenuto nel novembre del 1989 a Shreveport in Louisiana. Le vittime erano Julie Grissom di 24 anni suo padre Tom di 55 anni e sua nipote Sean. Vivevano nel tranquillo quartiere residenziale di Southern Hills. Sia Tom che stava combattendo contro il cancro che Sean erano stati visti fuori casa alle 17.30 di sabato 4 novembre. Quando i corpi erano stati scoperti le luci di casa erano accese e il giornale della domenica era ancora fuori casa. Questo suggeriva che fossero stati uccisi un po' prima di sabato sera. La barca di Tom Grissom era ancora nel suo garage. Inoltre un furgone Audi e una Ford erano parcheggiati nel dialetto il che sembrava escludere una rapina. Non c'era il consegno di effrazione e nulla sembrava essere stato portato via dalla casa. La polizia era convinta che ci fosse un aggressore che stava puntando Julie Grissom. Probabilmente era lei l'obiettivo principale. Tutte tra le vittime erano state accoltellate a morte. Julie Grissom era stata trascinata in fondo al suo letto dopo essere stata uccisa e posata con le gambe che le pendevano dalle estremità del letto e i capelli sparsi a ventaglio. L'assassino le aveva versato dell'aceto sulle zone intime e le aveva messo un asciugamano ai piedi. Esattamente come nel caso di Manny le vittime maschili sembrano un semplice danno collaterale ovvero sono stati uccisi in modo rapido ed efficiente. La rabbia dell'assassino era diretta proprio contro la ragazza. Gli investigatori tentano anche di trovare eventuali collegamenti tra le vittime. Credono che Manny fosse semplicemente nel posto sbagliato al momento sbagliato quindi si concentrano sulle vittime femminili scoprendo che venerdì 23 agosto Sonia, Cristina e Christa avevano fatto acquisti allo stesso Walmart a un'ora di distanza l'una dall'altra. Christa aveva pagato intorno alle 16.51 mentre Sonia e Cristina avevano pagato alle 18.07. Venerdì 24 agosto alle 15.05 Tracy e Manny stavano facendo shopping all'Oxmole. Christa aveva incontrato degli amici nello stesso centro commerciale quello stesso giorno alle 18. I collegamenti sono deboli e potrebbero essere del tutto casuali ma gli investigatori continuano a lavorarci ostinatamente. Arriviamo a venerdì 7 settembre quando a 67 chilometri a sud di Gainesville intorno a mezzogiorno il direttore del negozio di alimenti Winn-Dixie di Ocala viene assalito ritrovandosi una pistola puntata alla testa. Dopo aver raccolto i soldi dai registri davanti al negoziante il rapinatore esce dall'ingresso principale correndo verso il Palm Chevrolet una concessionaria di automobili. I primi agenti che rispondono notano immediatamente un uomo che corrisponde alla descrizione del rapinatore data dal direttore del negozio di alimentari nel parcheggio di Palm Chevrolet a bordo di una Mustang color argento. Quando gli agenti chiedono all'uomo di alzare le mani lui obbedisce ma nel giro di pochi secondi si lancia nel traffico ad alta velocità prima di colpire un'altra macchina. Quindi esce dalla macchina e inizia a correre ma viene fermato poco dopo dietro ad un negozio di fiori. A differenza della maggior parte delle persone che vengono arrestate quest'uomo ama parlare sottolinea che conosce i suoi diritti ma vuole comunque parlare dice agli ufficiali che possiede una pistola che è ancora nella Mustang ha rubato quell'auto a Tampa e poi aggiunge anche di aver sparato a suo padre. Un detective di Ocala a questo punto contatta la polizia di Shreveport la quale conferma che c'è un mandato in sospeso per tentato omicidio su un uomo di nome Danny Harold Rowling per aver sparato a suo padre in faccia e allo stomaco mentre la Florida aspetta di ricevere notizie dal laboratorio di Shreveport sull'omicidio avvenuto nel 1989 i detective continuano a sondare il background e i contatti di Edward la sua famiglia viene intervistata più volte mentre gli investigatori rimangono alquanto stupiti di scoprire che il fratello maggiore di Edward uno studente di giurisprudenza conosceva la povera Tracy Pauls inoltre alla fine emerge che Edward era a Gainesville durante gli omicidi avvenuti a Shreveport nel frattempo a Gainesville il 17 settembre arrivano i risultati del DNA e il seme trovato sulle scene del crimine non corrisponde a Edward Amphrey lo stesso giorno la task force di Gainesville apprende che Danny Harold Rowling è apparso nel tribunale della contea di Marion senza avvocato per dichiarare la sua colpevolezza viene accusato di rapina a mano armata possesso di un'arma da fuoco e fuga a novembre un detective di Shreveport contatta la task force di Gainesville ha ricevuto una soffiata il 5 novembre da Crime Stoppers un programma comunitario che aiuta le persone a fornire informazioni anonime sulle attività criminali Cindy Dobbins residente a Shreveport è stata in vacanza a Panama City in Florida alla fine di agosto proprio quando si è diffusa la notizia degli omicidi di Gainesville Cindy appena viene a sapere di questi delitti non può fare a meno di pensare agli omicidi dei Grissom avvenuti nel 1989 a Shreveport le vittime le hanno anche ricordato Omata Anne Halco che era stata sposata con Danny Rowling per un periodo secondo Cindy Danny parlava spesso di andare in Florida col fine di vedere le ragazze in spiaggia inoltre Cindy sa anche che Danny aveva comprato dei vestiti da Dillards a South Park Mall un negozio in cui aveva lavorato Julie Grissom e a dirla tutta il marito di Cindy Steve non si era mai sentito a suo agio in presenza di Danny l'8 novembre Danny Rowling viene rappresentato da un avvocato d'ufficio e gli viene concessa una mozione per essere valutato da uno psichiatra per determinare se può sostenere un processo il 9 novembre Danny chiede di vedere un medico sostenendo che sta per avere un esaurimento nervoso e non riesce più a dormire il 14 novembre un medico visita Danny e in effetti nota che ha diverse piaghe e graffi inoltre Danny gli dice che riesce a dormire al massimo due ore a notte perché le grida e i gemiti dei demoni lo tengono sveglio il medico nota anche che Danny ha tentato il suicidio due volte nel primo caso ha tentato di strangolarsi nel secondo caso ha ingerito 19 pasticche che ha riuscito a procurarsi da un altro detenuto a dicembre Danny dice al suo compagno di cella che la peggiore condanna che avrebbe ricevuto per la sua dichiarazione di colpevolezza sarebbe stata di 20 anni ma probabilmente sarebbe uscito molto prima il 13 dicembre il pubblico ministero presenta un'ordinanza chiedendo che Danny sia considerato un delinquente abituale data la sua lunga storia di rapine l'ordine viene approvato il 14 dicembre il primo gennaio del 1991 Danny stacca il gabinetto presente nella sua cella per tentare di rompere la finestra e scappare ebbene sappiate che la finestra non si rompe ma Danny si nel senso che si provoca dei tagli alle mani e uno alla gamba che gli vengono medicati e ricuciti in infermeria viene quindi trasferito in isolamento perché è un soggetto a rischio di fuga l'11 gennaio si scopre tramite dei registri militari di Danny che il suo gruppo sanguigno è il B un investigatore si dirige a Ocala apposta per ottenere un campione di sangue da Danny il 14 gennaio il laboratorio conferma che tutti i 12 enzimi presenti nel seme sulle scene del crimine sono anche presenti nel sangue di Danny il 22 gennaio un dentista della prigione estrae uno dei molari di Danny che è gravemente cariato il molare e la garza vengono raccolti come prove il giorno successivo Danny appare in tribunale per un'udienza atta a determinare se fosse necessaria un'ulteriore valutazione psicologica Danny dice al giudice che forse non è neanche degno di essere salvato gli investigatori che meno di sei mesi prima avevano sondato ogni aspetto della vita di Edward ora fanno la stessa cosa con Danny Rowling i suoi genitori James e Claudia si sposano nel 1953 James è un agente di polizia violento e autoritario non vuole diventare padre quindi picchia più volte sua moglie rischiando di causarle una valutazione Claudia scappa torna dai suoi genitori ma questa è solo la prima delle tante fughe della donna che si concluderanno sempre con la riconciliazione con il marito al quale non saprà mai opporsi nemmeno quando la sua brutalità si abbatterà sui figli infatti Daniel ossia Danny il suo primo genito non le perdonerà mai di non averlo protetto dal suo padre finendo per l'odiarla Daniel detto Danny nasce il 26 maggio del 1954 a Shreveport in Louisiana fin da subito suo padre dimostra di non sopportare né i suoi pianti né la sua presenza James lo prende a calci e si diverte a farlo rotolare sul pavimento per tutta la stanza il 15 agosto del 1955 Claudia partorisce il secondo figlio Kevin evento che rende il marito se possibile ancora più brutale una sera discutendo con la moglie sul canale da vedere James le rompe il labbro con un pugno la donna lo lascia e si trasferisce a Columbus dove sei mesi dopo il marito la raggiunge e le promette che è cambiato e che non alzerà mai più le mani Claudia purtroppo gli crede poco dopo infatti ahimè le violenze riprendono e si fanno più frequenti e brutali nel dicembre del 1959 James pure uccide il cagnolino che aveva affidato alle cure di Danny il cucciolo in effetti muore tra le braccia di Danny che è a dir poco inorridito durante le feste di Natale del 1963 quando Danny ha solo 9 anni James suo padre si accanisce a tal punto su di lui che sua moglie prende i figli l'albero di Natale già decorato e se ne va di casa per Claudia e i bambini questa potrebbe essere la possibilità di cambiare vita ma purtroppo la donna si fa convincere di nuovo a tornare con il marito poco dopo viene ricoverata in ospedale per un esaurimento nervoso nello stesso periodo Danny che è uno studente nella media al quale si riconosce uno spiccato talento artistico è costretto a perdere l'anno scolastico per le troppe assenze per malattia apparentemente Danny ha preso un'influenza che però si è protratta per lungo tempo questa è una mia ipotesi ma probabilmente Danny soffriva di questa influenza così protratta perché non lo curavano non gli davano medicine non facevano nulla per farlo stare meglio il padre però non se ne preoccupa e a dirla tutta accusa il figlio di fingere di star male per nascondere un qualcosa che ormai è chiaro a tutti è un fallito un buono a nulla Danny reagisce rifugiandosi sempre più spesso in un mondo immaginario che si riempie poco a poco di fantasie di violenza e di morte ora tenete a mente la prossima cosa che vi dico perché sarà importante nel 1964 un insegnante si accorge dei problemi psicologici di Danny e consiglia ai suoi genitori di portarlo da uno specialista in particolare l'insegnante sottolinea che Danny manifesta un forte complesso di inferiorità ed è incapace di controllare la sua aggressività l'aggressività Danny la sfoga sugli animali specialmente sui gatti il consiglio dell'insegnante purtroppo non viene affatto ascoltato se Danny da quel momento fosse stato seguito da uno psichiatra sarebbe comunque diventato un serial non lo sapremo mai ma sappiamo per certo che non riceve alcun aiuto e inizia precocemente a spiare le donne dalle finestre dei loro appartamenti abbandonandosi a fantasie intime sempre più violente arriviamo al settembre del 1966 quando James prova ad uccidere sua moglie ma neanche questo fatto la convince a lasciare definitivamente l'uomo nonostante i figli la implorino di farlo non sopportando più di essere sviliti presi a parole picchiati e perfino ammanettati al termosifone perché troppo turbolenti durante l'adolescenza Danny comincia ad opporsi al padre una volta evitando un suo pugno lo vede perdere l'equilibrio e cadere contro una finestra ferendosi gravemente mentre James è in ospedale Danny sconvolto si taglia i polsi con un rasoio il tentativo di suicidio non riesce e poco dopo suo padre torna a casa come se nulla fosse successo un mese dopo il suo diciassettesimo compleanno Danny si arruola nell'Air Force e viene mandato a Homestead in Florida il suo primo anno di arruolamento va bene il ragazzo consegue il diploma di scuola superiore e sembra che stia trovando in qualche modo la sua strada poi però Danny purtroppo inizia a ribellarsi inizia a bere molto e a fumare ancora di più e a consumare in generale parecchi tipi di sostanze gli vengono diagnosticate turbe psicologiche di natura intima e un probabile disturbo della personalità ma anche in questo caso il problema viene sottovalutato torna a casa ossia a Shreveport dove rimedia lavori saltuari e si avvicina alla chiesa fentecostale si fa battezzare e partecipa con fervore alle attività parrocchiali durante le quali conosce Omata N. Halko che sposa nel 1974 la donna è già incinta della loro prima figlia che sarebbe nata circa sei mesi dopo eppure le pressioni del matrimonio della paternità e del lavoro divorano Danny che presto riprende con le vecchie cattive abitudini Danny quindi rincomincia a bere abbondantemente a fumare e si allontana dalla chiesa e alla fine anche sua moglie Omata lo lascia nel giro di tre anni dopo che Danny le ha puntato un fucile alla testa minacciando di ucciderla Omata si risposa ben presto con un altro uomo il quale adotta la figlia che aveva avuto con Danny nel 1977 Danny fa violenza su una ragazza che assomiglia particolarmente a sua moglie che lo ha lasciato torna quindi a vivere con i suoi genitori e afferma di vedere UFO demoni fantasmi e perfino Gesù Danny è incapace di mantenersi un lavoro a lungo quindi inizia a rubare commette furti d'auto e rapine nei supermercati impara ben presto anche ad intruffolarsi negli appartamenti dopo aver studiato le abitudini degli inquilini nel 1979 Danny ha 25 anni e commette la sua prima rapina a mano armata in un minimarket a Shreveport riesce a raccimolare solo 11 dollari quindi li riconsegna il cassiere dicendogli che non ne vale proprio la pena insomma nel giro di un mese commette più rapine a mano armata a Shreveport Montgomery in Alabama e a Columbus in Georgia prima di essere arrestato viene condannato a 6 anni nell'agosto del 1979 viene rilasciato nel 1984 ma nell'estate del 1985 commette ancora una volta una rapina a mano armata il 29 luglio del 1988 viene rilasciato sulla parola dallo stato del Mississippi dove sta scontando la pena dopo ben 10 anni torna a Shreveport dei suoi genitori Danny svolge una varietà di lavori al dettaglio e nella ristorazione nessuno dei quali riesce a mantenere a lungo a causa della sua irritabilità in pratica non sopporta di ricevere ordini viene licenziato da un lavoro presso un ristorante sabato 4 novembre 1989 ossia il giorno in cui la famiglia Grissom viene assassinata il 18 maggio del 1990 Danny e suo padre che hanno sempre avuto un rapporto tumultuoso litigano di nuovo suo padre che tiene pistole in tutta casa punta un'arma contro suo figlio e spara per tre volte Danny spaventato ed infuriato esce di casa poi rientra e riesce a prendere a sua volta una pistola di suo padre gliela punta addosso e inizia a sparare riesce a colpirlo alla testa e allo stomaco prima di scappare James sopravvive va in ospedale e si riprende ma a seguito di questo fatto perde l'occhio destro e parte dell'udito dice agli investigatori che vanno a parlargli di aver paura di suo figlio Danny dice chiaramente che crede che suo figlio abbia bisogno di una terapia per i suoi problemi mentali e ammette di non aver mai avuto un buon rapporto con lui ora posso dire una cosa posso è alquanto assurdo che James ossia il padre di Danny si sia reso conto di questa cosa solo quando è stato ferito da suo figlio voglio dire l'ha cresciuto in un modo terribile l'ha sempre maltrattato gli ha puntato un'arma addosso ed ora ha paura di lui ora si rende conto che forse avrebbe bisogno di un aiuto psichiatrico e bravo James un applauso vogliamo forse ricordare di quando l'insegnante di Danny aveva già espresso preoccupazione per la salute mentale del ragazzino cosa aveva mai fatto James per prendersi cura di suo figlio beh niente al limite gli aveva dato un marrovescio in piena faccia quindi James senza offese ma mi esce dal cuore mi fai schifo comunque proseguiamo mentre James ha paura di Danny Claudia ha paura di James infatti Claudia in privato dice agli investigatori che suo marito è il responsabile di tutto chiamava Danny più volte truffatore si rifiutava di rivolgersi a lui chiamandolo per nome Claudia sa che suo figlio ha l'autostima sotto i piedi e si è lanciato verso un percorso di vita autodistruttivo intanto Danny è convinto di aver ucciso suo padre quindi fugge rimane per un po' in Louisiana dove vive di rapine poi ecco che durante un lungo fine settimana estivo terrorizza per una decina di giorni Gainesville in Florida che allora era uno dei primi 15 luoghi più tranquilli d'America dove vivere torniamo dunque all'agosto del 1991 quando Danny Rolling viene citato in giudizio a Tampa con l'accuso di furto con scasso e l'avvocato di Edward Humphrey rilascia un'intervista registrata dal suo cliente che è ancora in carcere ma deve essere rilasciato entro meno di un mese Edward nega di nuovo il suo coinvolgimento negli omicidi ovviamente il 18 settembre del 1991 a Ocala Danny Rolling viene condannato all'ergastolo come delinquente abituale per la sua condanna per rapina a mano armata al negozio di alimentari Winn-Dixie il mese successivo è a Tampa dove riceve altri tre ergastoli per le sue condanne il primo novembre viene indicato come colui che ha fatto una rapina a mano armata in una banca a Gainesville nel corso dei due anni successivi Danny sostiene di essere un figlio di Dio e che si fida di Gesù poi inizia a parlare con un altro detenuto di nome Bobby e inizia a confessare tutto ciò che aveva fatto agli studenti di Gainesville infatti si vanta delle sue imprese ed è convinto di farla franca perché non ha lasciato tracce di sé sulle varie scene del crimine infatti è quanto dice aveva lavato con cura le donne a cui aveva fatto violenza e aveva portato via il nastro adesivo con cui le aveva immobilizzate Bobby ovviamente riferisce tutto alle autorità quindi Danny lo considera un traditore per aver riferito le sue confidenze bene Danny mi dispiace per te nel senso Bobby sarà anche un traditore ma tu sei anche un po' un ciula ma io mi chiedo perché queste persone si mettono a fare confidenze a caso ai loro compagni di cella forse è quasi meglio che lo confidi a un tuo amico a un tuo conoscente non a un compagno di cella qualsiasi un compagno di cella ti vende nel giro di tre minuti netti ed è normale può ottenere comunque grazie a queste situazioni degli sconti di pena e dimmi chi è questo Bobby per non voler ottenere uno sconto di pena Danny chi Danny sebbene sia in carcere e già condannato crede di essere più furbo sia della polizia che dell'FBI però in effetti ha fatto un enorme errore in qualche modo ha confessato i suoi crimini e l'ha fatto senza dimenticarsi neanche mezzo particolare a questo punto al processo Danny non ha scampo il processo sugli omicidi di Gainesville inizia nel febbraio del 1994 Danny cerca di convincere la giuria che la responsabilità dei suoi delitti è da attribuirsi al suo alter ego cattivo sia gemini la difesa quindi sostiene che Danny ha agito per infermità mentale e scarica la responsabilità sulla sua infanzia terribile sui traumi subiti chiama a testimoniare anche Claudia Rowling la madre di Danny che nel frattempo si è ammalata di cancro per confermare gli ausi psicologici e fisici che Danny ha subito dal padre fin da piccolo la donna non nasconde nulla si pente pubblicamente per non aver protetto i suoi figli dalla brutalità di suo marito e chiede perdono i tre psichiatri dell'accusa sono disposti a riconoscere che Danny soffre di un forte disordine di personalità e che dimostra la maturità di un quindicenne a causa del suo passato sostengono tuttavia che mentre commetteva i delitti era perfettamente in grado di intendere e di volere insomma sapeva quello che stava facendo il 20 aprile del 1994 Danny viene condannato a morte per ben cinque volte una per ogni delitto commesso il 25 ottobre 2006 nel carcere di Stark in Florida Danny Rolling a 52 anni viene giustiziato attraverso l'iniezione letale prima di essere giustiziato Danny ha fatto in tempo a scrivere insieme a Sondra London che era una sua fidanzata un libro sulle sue memorie corredato da macabri disegni che ha realizzato personalmente ha fatto anche in tempo a sapere di aver ispirato i film della serie Scream di Wes Craven nel 2010 dalla sua storia è stato tratto il film dei Gainesville Ripper io ho finito di parlare in questo video fatemi sapere se conoscevate questi casi questo serial e questa storia che cosa ne pensate fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti io nel frattempo vi mando un bacione mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti